Paglia non si festezza! Inoltre lo peccato! Noi, vieni! Vieni, vieni! Cerca! Lo noto! Via, 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 via! Via! Via, via... Via, via, via! 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 Via, via! Via, via, via! Via! No, no, no. Allora avete visto carica, controcarica qui proprio all'incrocio tra via Umberto e via Etnea, lancio di oggetti. No, no, no. Ovviamente la situazione è ora di grandissima tensione. Sono partiti i mezzi del reparto cedere che erano fermi qua davanti alla villa. Signore, grazie, grazie. No, 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 no. Naturalmente c'è stato qualche fermo. Sequestrato il mostricione. Signori, via! Che hanno paura che ricaricano evidentemente. Io li sto lavorando, sono un giornalista. Non mi interessa, siete! Ok, calmo, calmo, calmo. Calmo, calmo, calmo. Siamo calmi tutti. Ecco un altro fermato. Sono di quelli che erano davanti che hanno caricato il cordone del reparto cedere naturalmente che ha subito risposto. Calmo, calmo, calmo.